I diritti di cittadinanza europea al centro di un workshop organizzato a Palazzo San Giacomo con i mediatori interculturali che offrono accoglienza ed assistenza agli stranieri presenti sul territorio. La giornata è inserita nell'ambito del progetto Europa nelle lingue del mondo e vuole promuovere la conoscenza delle reti di informazione messe a punto dall'Unione per garantire la partecipazione e la cittadinanza attiva dei migranti e rifugiati che stanno compiendo il proprio percorso di integrazione in Italia. L'incontro, presieduto da Elena Coccia, è previsto anche nelle città di Roma e Milano e si rivolge agli operatori pubblici e privati che svolgono servizio presso gli sportelli informativi di assistenza socio-legale e di orientamento al lavoro.